Per questa seconda puntata dei nostri co-video 1900 abbiamo pensato di non fare come nella prima, cioè di prendere un brano e analizzarlo dal punto di vista storico, estetico, compositivo, ma questa volta di soffermarci sul timbro di uno strumento e ascoltarlo con orecchie nuove, nelle sue possibilità, perché nella musica contemporanea, forse non tutti lo sanno, i compositori hanno preso gli strumenti della tradizione che tutti conoscono e li hanno fatti suonare veramente in modo nuovo, in modo molto particolare, è uno degli ambiti di ricerca della musica contemporanea. E oggi cominciamo proprio con il flauto, perché da un lato è lo strumento forse più antico di tutti e su di esso ruotano anche molte leggende, penso al pifferaio magico piuttosto che al flauto di Pan, e poi perché in realtà è uno strumento estremamente agile ed utile, può fare molte note in breve tempo, può passare rapidamente dai suoni più acuti e suoni gravi, ha tante possibilità di modifica del timbro e quindi i compositori sono affascinati da un lato da questo mondo arcaico che viene richiamato dal flauto stesso e dall'altro da queste nuove possibilità che hanno di fronte. Non mi voglio svelare altro, ma grazie a Giulia Biffi, che in questo momento è segregata a Genova e grazie al suo telefono con cui ha fatto le registrazioni, possiamo veramente entrare nel suono di questo particolare strumento, come credo non l'abbiate mai sentito fino ad ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giulia, l'autore dell'innovo offerto Ensemble. Mi avete appena sentito un estratto da un brano di Noina Rotaru, spente di rumo. Un brano per applauso solo, composto nel 1997. Noina Rotaru è una grandissima pubblicitrice contemporanea, attualmente docente al Conservatorio di Bucharest. È una delle autrici contemporanee, direi, più prolifiche per flauto. Tanto è vero che, insomma, questo è uno degli strumenti principi, senza corona, della sua produzione artistica. Avete sentito come è possibile cantare e suonare contemporaneamente, cosa che richiede una grande coordinazione per lo strumentista, perché deve soffiare aria per far suonare lo strumento e contemporaneamente far vibrare le corde vocali per cantare. In questo caso la voce teneva un suono bordone sotto e il flauto ricamava con altre note al di sopra. È una cosa molto complicata e appunto viene sperimentata proprio nell'arco di quest'ultimo secolo. Ma il flauto è uno strumento dal tale potenziale che può fare più suoni alla volta, anche senza l'aiuto della voce umana. Il flautista deve cambiare alcune posizioni e allora riesce a emettere più suoni. È una cosa molto particolare e sentite in questo inizio di questo frammento proprio come Giulia riesca a fare un suono più grave e uno più acuto e poi tutto quanto sublima in un unico tremolo verso l'alto. Quando un compositore scrive per uno strumento piuttosto che per un altro o per un gruppo di strumenti, si scrive per oboe, per percussioni e viola, per violoncelle pianoforte, ci deve essere un significato. Abbiamo chiesto a Giulia secondo lei come mai Doina Rotaru per il suo Tempio di Fumo ha scelto proprio questo strumento. Doina Rotaru ha scritto moltissimo per flauto e questo perché la sua musica è caratterizzata da un forte simbolismo. Tant'è vero che quando descrive i suoi brani usa sempre queste immagini archetipiche come la spirale, il cerchio, l'albero della vita. Sono tutti simboli che, almeno a detta sua, rappresentano in qualche modo una cultura ancestrale che è condivisa da tutti. Il flauto è lo strumento tipicamente della preghiera e quindi è ciò che mette in comunicazione tutto quello che è umano con quello che è divino. Di conseguenza è lo strumento che meglio, secondo la compositrice, può trasmettere queste immagini e queste idee archetipiche. Ci salutiamo con quest'ultimo esempio in cui sentiremo alcune tecniche ravvicinate quasi in dissolvenza l'una con l'altra cosa che richiede all'esecutore anche una grande difficoltà di passare dall'una all'altra. Giulia ci nominerà alcune tecniche poi le vedremo anche scritte sotto mentre le ascoltiamo. Buon ascolto e ci vediamo alla prossima puntata. In tutti i nuovi brani per flauto, per flauto in generale, non può mancare un jet whistle. Doina Nataro fa un uso interessante del jet whistle anziché usare quello standard che tutti conosciamo, che è quella invocatura interna. Ci scrive un jet whistle a invocatura esterna invece e non sempre ascendenti come li conosciamo. La patata secondo me è davvero magica è il passaggio da questo whistle tone al tremolo di armonici con il corpo di chiave proprio che ha un'atmosfera di trasfigurazione continua del suono. In effetti è difficile. Ci è voluto un po' a studiarlo. in effetti è un'atmosfera di trasfigurazione continua del suono. In effetti è un'atmosfera di trasfigurazione continua del suono. in effetti è un'atmosfera di trasfigurazione viv'ariva. Grazie a tutti.